Debutta in coincidenza del decimo anniversario del Trattato di Lisbona l'alta dirigenza dell'Europa. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, ha ottenuto il placer dal Parlamento europeo qualche giorno fa, dopo settimane di ritardi. Adesso si passa all'azione, come indica il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. La geometria delle opportunità la precisa a von der Leyen. Un continente di pace, con diritti e libertà, un mercato unico, con opportunità economiche senza precedenti, è nostro dovere tutelare questo tesoro. Ma l'Europa non è soltanto il tesoro che ereditiamo. L'Europa è una promessa, l'Europa è il futuro. La presidenza del Consiglio dell'Unione passa dalle mani di Donald Tusk a quelle dell'ex primo ministro belga Charles Michel, che si mette al diapason. È puntuale la nostra lotta, la lotta comune contro i cambiamenti climatici. Il Trattato di Lisbona ha conferito all'Unione una nuova personalità giuridica, che ci consente di firmare accordi internazionali fondamentali, come quello di Parigi. Il Trattato trasforma anche il volto della democrazia, rafforzando la trasparenza e spalanca le porte ai legislatori di Bruxelles. I Presidenti di Parlamento e Consiglio hanno donato a von der Leyen una raccolta dei trattati. La gestione della BCE, affidata alla francese Christine Lagarde, tenterà di schiudere una stagione di innovazione e non solo di difesa delle finanze aggredite dalla moltiplicazione delle crisi. Grazie a tutti.